Eccoci qui, buongiorno a tutte, ciao, ben ritrovate, eccoci alla nuova diretta di tre dirette sul Comò che è ormai il nostro appuntamento settimanale. Nelle scorse settimane abbiamo affrontato due argomenti importanti, uno era quello del, aspettate che faccio partire, non è partito? Va bene, facciamo che intanto andiamo in diretta su Facebook e poi riusciremo anche a collegarci su Instagram se riusciremo. Quindi stavo dicendo, intanto mi presento, mi chiamo Anna Ragusa e sono la titolare dell'atelier di Anna di Sedriano, per tutte quelle che non mi conoscono, mi occupo di abiti da sposa da ormai 33 anni suonati e in questa diretta volevo affrontare un argomento molto importante che è quello della conciatura. Un secondo soltanto che provo a vedere se riusciamo a fare una diretta anche su Instagram, così che ci possano vedere anche gli amici su Instagram e penso di riuscirci, ecco, forse ce l'ho fatta, ecco fatto, e quindi mi ripresento, sono Anna Ragusa, anche per gli amici di Instagram, la titolare dell'atelier di Anna di Sedriano. Ok, spero che mi vediate tutti bene. Allora, intanto comincerei con il presentare il mio ospite che questa volta arriva da Pistoia, è un'artista delle acconciature, si chiama Riccardo, Riccardo Fashion Wedding, ed è lo specialista delle acconciature da sposa, da cerimonia e da gran galà. È un componente della Nazionale Acconciatori Italiani ed eccomi qui che vengo subito a presentarvelo. Ciao Anna, ecco Riccardo, buongiorno, buongiorno, scusami ma ti sento un pochettino indifferita su Instagram e quindi cercavo di sintonizzare entrambi i canali, nessun problema, buongiorno, buongiorno a tutti. Tu mi senti correttamente? Buongiorno a te Riccardo, presentati a tutte le nostre ospiti. Sì, certo, volentieri, se mi vuoi accettare nel frattempo la richiesta anche su Instagram, così i nostri utenti possono vedermi sia di qua che di là. Nel frattempo ne approfitto per spendere, innanzitutto ringraziarti per avermi ospitato all'interno della tua rubrica, sicuramente è una bellissima occasione di confronto e perché no di approfondire alcuni aspetti che tendenzialmente vengono lasciati un pochettino in secondo piano, ma che ovviamente sono di valore importante. Quindi ti ringrazio veramente di avermi coinvolto in tutto questo. Io sono wedding hairstylist, vale a dire sono nato come acconciatore, ho due saloni a Pistoia, nella provincia di Pistoia. Perfetto, Anna, sei entrata anche su Instagram, ti vedo anche lì. È stata un po' dura, ma ce l'ho fatta. Aspetta, aspetta che abbassiamo un po' il volume così che non ci disturbi, ecco. Perfetto, perfetto. Posso procedere, Anna, tu mi senti correttamente? Certo, certo, Riccardo, sì. Perfetto, allora stavo dicendo, io sono toscano, come sentite dal mio accento, sono di Pistoia, ho due saloni di acconciature ed estetica e da 15 anni mi occupo di wedding, quindi tutto quello che sono le acconciature, diciamo, del mondo del wedding, non solo per le spose ma anche per gli invitati. O negli ultimi tre anni invece ho intrapreso un nuovo percorso bellissimo, che è quello che mi sta dando grandissime soddisfazioni, vale a dire ho iniziato a fare della formazione, grazie anche proprio all'interesse di tantissimi colleghi di tutta Italia che mi scrivevano, mi chiamavano chiedendomi tu, live, tutor, eccetera, ho deciso pian pianino di approcciarmi al mondo della formazione e da tre, quattro anni ormai seguo buona parte degli hairstylist italiani sulle acconciature da sera da sposa e grandi eventi. Quindi veramente riesco a toccare non solo l'ambito delle spose, del wedding, ma proprio avere un focus specifico sull'acconciatura. E oltre a questo, giusto perché ne avevo poche da fare, ho deciso qualche anno fa di prendere una nuova qualifica professionale, quella di lookmaker, cioè vale a dire quel professionista che attraverso, diciamo, una qualifica professionale lavora mantenendosi sempre aggiornato su quelle che sono le tendenze moda e riesce attraverso un metodo oggettivo, quindi non più secondo me ti sta bene, secondo me ti sta male, ma proprio attraverso un protocollo oggettivo riusciamo a fare un test cromatico per vedere quali sono le palette colori giuste, adatte ad ogni tipo di donna, di incarnato e di volto, piuttosto che appunto un focus specifico sul viso dove trattiamo non solo gli inestetismi ma anche tutte quelle che sono le anomalie, le imperfezioni, le discromie del volto e poi scendere per quanto riguarda la parte della silhouette su forme e movimenti. Quindi diciamo queste due qualifiche mi permettano ovviamente di lavorare in modo un pochettino più approfondito, mirato proprio sul focus delle acconciature da sera e da sposa. Direi che sei stato chiarissimo Riccardo, non potrei essere più esaustivo di così. Io adesso ti faccio proprio delle domande molto semplici Riccardo, proprio le domande che ti farebbero un po' le mie spose. Allora, secondo me l'abbinamento, abito e acconciatura sono importantissimi per definire il look perfetto della sposa. Quindi, laddove la sposa è una sposa romantica, con un abito ampio, un po' principesco, ma vuole da te un parere un po' oggettivo su quello che è l'acconciatura migliore anche in base al suo di capello. Tu come ti comporti laddove il capello è corto piuttosto che il capello è lungo della sposa? Allora... Se ha fatto una scelta di questo tipo. Allora, faccio subito una leggera premessa riguardo alla lunghezza dei capelli. Oggigiorno le tecniche e gli strumenti di cui siamo in possesso assolutamente ti consentono di realizzare qualsiasi tipo di acconciatura su qualsiasi tipo di capello. Fa la differenza, gioco forte ovviamente, l'esperienza, la professionalità e i prodotti che utilizziamo. Quindi sicuramente capello corto, capello lungo, tranquillamente riusciamo ad adattarci in base all'esigenza che ci vogliamo porre, alla necessità che abbiamo, senza nessun tipo di problemi. Poi, per quanto riguarda invece la domanda che mi dicevi, quindi come si sceglie un'acconciatura su un determinato stile, io vorrei fare velocemente un excursus, o meglio, il punto di partenza è sempre la forma del viso, perché a seconda della forma che noi andiamo a trattare, dobbiamo in un qual modo tendere o ad allargarla o ad allungarla, o perché no a ristringerla, a chiuderla, dipende un attimino proprio dalla forma del viso. Questo lo facciamo sia per quanto riguarda l'attività di make-up, attraverso camouflage, contouring, strobing, eccetera, e soprattutto anche attraverso l'acconciatura. Quindi capire un attimino quali sono le proporzioni giuste, quali sono i volumi giusti di un raccolto, e come deve essere definito, come deve essere valorizzato, quali sono i punti da mettere in rilievo. Faccio velocemente un esempio pratico. Un raccolto che magari ha delle dinamiche un pochettino più larghe, tanto per fare un esempio semplice, sicuramente va sconsigliato su un viso rotondo, su un viso quadrato, su un viso rettangolare, su un viso esagonale, ok? Quindi sono tutte quelle situazioni dove tendenzialmente non lo facciamo. Viceversa, se io ho un ovale perfetto, tendenzialmente chiamato così, quindi dove le proporzioni, larghezza e altezza, sono quelle diciamo canoniche, poi è molto difficile trovarlo, ma sono quelle un po' di riferimento, lì possiamo giocare sia sulla verticalità, quindi tendere ad allungare, e quindi fare un raccolto sinuoso, un pochettino più voluminoso, un pochettino più alto, perché no ad allargarlo. Teniamo sempre presente che dobbiamo considerare un altro parametro, e solitamente non viene mai preso in esame, che è l'altezza della sposa, ma anche dello sposo, perché questo... Infatti questa è una delle problematiche che mi si presenta molto spesso. L'acconciatura spesso va ad alzare molto quello che è la figura della sposa, e quando lo sposo è lì e lì come altezza, crea delle difficoltà. Spesso mi si presenta questo problema, la ragazza viene in atelier e si focalizza la sua attenzione sulle scarpe, cercando magari la scarpa a due centimetri più bassa, solo perché lo sposo è pari a lei, e poi non concentra la sua attenzione su quello che è l'acconciatura, che i due centimetri, ma anche i quattro e cinque, non si notano nemmeno, cioè fa in un attimo ad alzare un'acconciatura di cinque centimetri, giusto Riccardo? Giustissimo, lì dipende un pochettino proprio dal percorso che ha fatto insieme al lookmaker che la segue, o al wedding hairstylist che la segue, solitamente questo è il punto di partenza imprescindibile da qualsiasi tipo di raccolto noi andiamo a fare, quindi valutare la forma del viso, poi anche lì ci sono veramente tante sfaccettature, la forma degli occhiali qualora le indossi, la forma dei capelli o del raccolto, se dobbiamo andare a fare un determinato effetto ottico per abbassare o addirittura allargare, quindi lo studio che viene fatto parte veramente mesi e mesi prima, proprio per avere il tempo di fare non solo la parte prova, che è quella un pochettino più ambita dalle spose, ma tutta la parte della consulenza che invece è pregressa, quindi lo studio che in realtà è molto teorico, è un pochettino meno pratico, ma serve proprio a dare delle dinamiche giuste per far andare avanti questo percorso e valorizzare non solo i punti di forza accentuandoli, ma cercando di nascondere per quanto possibile quelli che sono invece i punti deboli, quindi gli anestetismi, eventuali, ripeto, discromie del volto sul make-up, o sui capelli, eventuali zone miniaturizzate, quindi dobbiamo veramente andare a compensare e l'attività di compensazione è quella un pochettino più difficile, perché realizzare il raccolto sono dei passaggi obbligati, l'attività invece di studio, di approfondimento del volto bisogna avere veramente un occhio un pochino più critico e andare a toccare quei punti un pochino più ostili. Beh, lì poi sicuramente sarà la bravura del parrucchiera a cui la ragazza si affiderà. Intanto volevo ringraziare perché vedo che si stanno aggiungendo in diretta parecchie persone, tante ragazze ci stanno seguendo, intanto comincio a salutare Maristella, Viviana, Massimo, Elisabetta, Patrizia, Gioia che ci stanno seguendo su Facebook, mentre su Instagram ce ne sono un po', me ne sono un po' perse, Francesca, Claretta, grazie di essere qui con noi e... Le ringrazio e ti comunico che non riesco a vedere i commenti, quindi se ci fossero domande inerenti per favore fammi tu da filtro. Infatti, infatti, adesso io sto cercando di tenere sotto controllo se arriva qualche richiesta per te. Allora, intanto vabbè, sei stato molto chiaro e... L'altra domanda che mi viene spontaneo farti è questa. Noi amiamo molto il velo come atelier, io e le mie collaboratrici lo amiamo in modo particolare e quindi andiamo a consigliarlo molto spesso. Laddove l'acconciatura, l'acconciatura con il velo ha bisogno poi di essere supportata da X situazioni, mentre poi il doverla togliere, dover togliere il velo, l'acconciatura deve rimanere perfetta. Allora, premetto che io il velo lo amo in modo particolare perché per me il velo fa sposa. quando una sposa sceglie un abito anche se è semplicissimo, anche se è un abitino proprio minimal, ma quando ha indosso il velo è diventata una sposa. È quello che fa la differenza. Quindi trasmetto questa passione a tutte le mie clienti. Infatti buona parte di loro fa questa scelta. Però poi si pone questo problema. Allora, partiamo dal presupposto che non tutte le acconciature possono supportare il velo perché per sostenere il velo e essere sicuri al 100% della tenuta serve un ancoraggio particolare. Questo ancoraggio ovviamente cambia a seconda della dimensione del velo. Quindi se si parla di un velo corto un 3 metri o un 5 metri. Di conseguenza dobbiamo valutare in fase di preparazione se l'acconciatura che abbiamo scelto supporta il velo. Laddove lo possa supportare quindi non ci sono nessun tipo di problemi per poterlo mettere. Dobbiamo capire dove metterlo quindi in che posizione andare a collocare il velo e come dicevi giustamente tu la fase un pochettino più delicata è proprio l'estrazione del velo. Perché? Perché innanzitutto quando viene inserito lo fa il 99% dei casi proprio l'hair stylist che è al domicilio della sposa quindi diciamo in ambito protetto non ci sono problemi. Quando lo andiamo a togliere non è difficoltoso perché fondamentalmente molto spesso sono dei pettinini di ancoraggio quindi è abbastanza elementare il problema è tutta quella situazione di ricrescite e pelucchi che possono venire fuori dall'estrazione del velo quindi dobbiamo veramente farlo come noi abbiamo dei trucchi del mestiere ovviamente che insegniamo alle persone che sono vicine alle spose che si occupano di andare a togliere il velo e quindi attraverso questi piccoli accorgimenti non si vanno a innalzare qui io suggerisco sempre e tu Anna sono sicuro al 100% che sposerai il mio pensiero vado a dire che si passa si fa un cambiamento si lascia un attimino in disparte il velo quindi dopo la cerimonia lo andiamo a togliere per dare spazio proprio a quelli che sono gli ornamenti gli accessori in atelier tu sicuramente ne hai una quantità infinita da poter proporre alle nostre spose perché questo si soprattutto sono abbinati soprattutto quelli che noi abbiamo in atelier sono abbinati all'abito perché il più delle volte sono realizzate con lo stesso materiale e quindi ha lo stesso effetto luce che hai sull'abito loro vai a riproporre sui capelli perché mi è capitato spesse volte di vedere ragazze che sono arrivate con delle acconciature che avevano preso o magari gliele erano state regalate da amiche e la luce era decisamente diversa rispetto a quella dell'abito e stonava un po' ecco quindi alla fine sono quei piccoli dettagli che rischiano di rovinare quello che è l'effetto finale di un bel lavoro fatto dal parrucchiere e un bel lavoro fatto da noi che abbiamo creato l'abito proprio per questo motivo a fronte di questo motivo il solito inconveniente lo troviamo anche con i veli ahimè che sembra una cosa scontata compro l'abito compro il velo in realtà mi capita spesso di vedere spose in salone che si avvicinano a noi con l'immagine dell'abito ma che non hanno valutato il velo e quindi quando decidono di mettere una fase post magari per timore di tornare a disturbare magari per timore di vanno altrove quindi ci si trova in queste situazioni effettivamente con delle poco armoniche poco carine e anche poco eleganti dove c'è proprio un tessuto nel velo e un altro tessuto nel vestito ecco perché io consiglio sempre dove comprate l'abito proprio di inserire anche il velo perché non si può fare due cose che non sono armoniche fra di loro ti volevo far vedere non so se riesco ecco qua questa è una mia sposa si chiama Chiara e ti chiede extension sì o no quindi lo consigli sì perché lo sconsigli sì perché allora innanzitutto saluto Chiara e la ringrazio per questa domanda che ci ha fatto è una domanda molto interessante per parlare di uno spunto che ne può nascere vale a dire noi tendenzialmente utilizziamo le estensioni però dipende molto dall'obiettivo che vogliamo raggiungere e dai capelli che abbiamo di partenza perché in tante abbastanza importante che ci consente di realizzare qualsiasi tipo di acconciatura a volte la massa effettivamente è minore o l'aspettativa della sposa è superiore rispetto a quella che noi possiamo ottenere dai propri capelli e quindi abbiamo la necessità di avere dei supporti quali estensioni posticce e quant'altro dipende veramente da cosa decidiamo e come si parte purtroppo tante spose arrivano da noi un pochettino sottodata e quindi anche la tempistica per poter lavorare sui capelli è molto ridotta perché ovviamente non è che sono trattamenti come dico sempre che fanno il miracolo ci vuole ovviamente un pochettino di costanza quindi se una si approccia alla nostra realtà due mesi prima del matrimonio o come succede per la maggior parte delle volte magari uno passa dice guarda io mi sposo il prossimo anno ci vediamo più avanti e poi arriva due mesi prima tre mesi prima è veramente difficoltoso poter recuperare qualcosa dai propri capelli mentre questi sono strumenti ovviamente annessi e connessi che ci consentono di fare da ponte e poter far raggiungere gli stessi obiettivi anche a chi magari potenzialmente non può farlo sono stato chiaro diciamo che riuscire a dare un miracolo anche laddove non c'è la materia prima diciamo che il nostro compito è quello proprio di migliorare questi aspetti un'altra cosa che solitamente viene sottovalutata è proprio l'uso delle polveri noi utilizziamo delle polveri proprio per quei capelli più sottili per garantire non solo una tenuta alla radice e quindi parlo di polveri volumizzanti che anche se uno si sposa in estate quindi tende un pochettino a sudare eccetera loro assorbono meravigliosamente tutto e il raccolto rimane intatto fino alla fine lo stesso problema lo stesso prodotto può essere utilizzato ovviamente con colorimetrie diverse per quanto riguarda la copertura di zone un pochettino più sensibilizzate quindi dove i capelli effettivamente sono un pochino più sottili e assottigliati quindi veramente riusciamo a fare quasi tutto nel migliore dei modi insomma adesso vedo un'altra domanda Massimo vediamo vediamo se riesco a fartela vedere in diretta ciao Massimo intanto e sta chiedendo se come per l'abito e l'acconciatura ci deve essere un po' un filo conduttore se anche il bouquet ha alla fine ha questo filo che va a legare tutto quello che è l'ornamento della sport allora saluto Massimo e lo ringrazio per questa domanda uno spunto veramente interessante ti confermo anzi vi confermo che il filo conduttore deve essere uno non possono essere tanti diversi costili diversi se no diventa un albero di Natale un'altra cosa quella quindi il fatto di avere un bouquet che stia bene su un abito che stia bene sugli allestimenti che si sposi bene col tipo di stile che viene realizzato con un'acconciatura con un make up assolutamente sì è una prerogativa questa che dobbiamo avere ora tu sei del settore quindi mi permetto di darti del tu Massimo in confidenza tu sei del settore quindi giustamente queste cose già le sai e le conosci però è proprio fondamentale passare questo messaggio che non si può lavorare a compartimenti stagni è veramente il gioco forza di tutta la squadra che lavora come unico obiettivo che è quello di valorizzare le forme valorizzare l'aspetto valorizzare l'evento e tirarne fuori il massimo quindi scegliere dei professionisti e non persone improvvisate è sicuramente un tassello che ci consente di e vi consente di strutturare il giorno dell'evento arginando il più possibile quelli che sono eventuali imprevisti che ne possono nascere e vi garantisco che purtroppo succede noi ci troviamo spesso in varie situazioni soprattutto con persone improvvisate non professionisti che ovviamente non conoscono queste dinamiche e facciamo veramente fatica in poco tempo ad assemblare dei tasselli che sostanzialmente non hanno avuto le basi quindi professionisti sicuramente del settore non il cugino del cugino del cugino lo ribadiscono ogni diretta perché noi siamo il primo anello della catena di conseguenza tutti quelli dopo di noi possano fare ritardo se noi non ci adoperiamo per il meglio e quindi scegliere un professionista ora in questo caso mi riferisco makeup artist e hairstylist sicuramente ci consente di rispettare i tempi e non avere spiacevoli sorprese spero Massimo di aver risposto alla sua domanda in modo esaustivo direi che comunque questo è un po' il pensiero di tutti noi perché ci deve essere sinergia tra i vari fornitori e io lo dico sempre anche alle mie spose questo perché è importante deve essere un lavoro di squadra e più la squadra è compatta e lavora sugli stessi principi e utilizza lo stesso diciamo metodo di lavoro sicuramente il risultato poi ne beneficia ecco io direi che le domande abbiamo dato sei stato chiarissimo hai dato molto sei stato molto esaustivo nelle tue risposte l'altra domanda che mi viene posta molto spesso Riccardo è quella che si riferisce al cambio abito cioè adesso sai che va molto di moda questa questa cosa di fare vabbè l'abito importante per la cerimonia quindi magari anche voluminoso quindi romantico e poi andare a fare un cambio d'abito all'interno della location quindi quando poi si arriva al taglio torta all'inizio della festa un qualcosina di molto più semplice molto più comodo per appunto la festa e lì l'acconciatura va poi rivista è possibile nel tuo modo di lavorare pensare ad un'acconciatura che sia bellissima e che regga bene per la cerimonia che poi magari solo togliendo qualche forcina perché naturalmente non si può avere lo stylist tutta la giornata a seguito non tutte perlomeno se lo possono permettere e quindi riuscire in autonomia a trasformare l'acconciatura rendendola adatta poi alla festa allora partiamo un po' se sto pensando a come filtrare il messaggio allora certo il cambio d'abito sicuramente è uno step importante che va valutato ovviamente prima in fase di prova e quello che sarà il raccolto che andiamo a realizzare come il make up del resto deve essere concordato a priori poi è ovvio e scontato che le caratteristiche dell'abito e quindi l'armofromia che noi riusciamo a tirare fuori in un contesto di immagine da quella sposa con quell'abito con quell'acconciatura con quel make up e quel mazzolino giustamente che diceva anche il nostro amico massimo quella è un'immagine se noi cambiamo l'abito implicitamente dobbiamo accettare il compromesso di dover cambiare un pochino quella che è la nostra immagine perché perché se io vado a valorizzare determinati punti su un abito non è detto che su un altro potrebbe diventare magari troppo facchiano o rischiare di essere troppo semplice quindi veramente c'è da trovare un equilibrio in tutto questo poi come viene fatto il cambio d'abito tendenzialmente viene fatto anche il cambio di acconciatura in professionisti soprattutto i wedding hairstylist oggigiorno rimangono a disposizione proprio per fare questo all'interno dell'evento in modo che possano rubare velocemente la sposa in un contesto di post cena post pranzo eccetera realizzare velocemente la seconda acconciatura e farla riuscire difficilmente può essere fatto in maniera autonoma perché siccome la priorità delle spose è la tenuta dell'acconciatura noi dobbiamo essere sicuri al cento per cento che quell'acconciatura lì tenga fino alla fine di conseguenza viene infatti questo scusami Riccardo ti interrompo questo è un'altra delle preoccupazioni che le spose mi sollevano spesso l'acconciatura reggerà tutto il giorno o rischio di avere poi tutti i capelli in disordine quando poi è il momento della festa è il momento che comunque verranno fatte altre foto quindi la preoccupazione della sposa di non essere al top per tutta la giornata questa c'è infatti stavo appunto cercando di sviscerare questo punto ritico e so che è una delle domande più comuni che ci viene posta e quindi torniamo un attimino all'argomento e poi implementiamo con altre informazioni per quanto riguarda dicevo il cambio d'abito prevede anche un cambio di acconciatura di conseguenze professionisti soprattutto i wedding hairstylist che fanno solo quello tutti i giorni da mattina a sera sanno tranquillamente come gestire le dinamiche dei tempi e le dinamiche ovviamente dei prodotti che ci aiutano nel garantire poi una tenuta quindi da sola la sposa difficilmente riesce a togliere qualcosina e creare un altro lavoro perché la struttura la preparazione il metodo che c'è sotto è stato studiato per quel tipo di acconciatura del pomeriggio e non per il cambio della sera di conseguenza non ha questa duplice versatilità per quanto riguarda invece giustamente la domanda che mi hai posto tu Anna della tenuta dell'acconciatura tutto difende dal metodo che viene utilizzato anche lì la scelta di un parrucchiere è ben diverto da un wedding hairstylist wedding hairstylist è colui che fa acconciature tutti i giorni da mattina a sera tutto l'anno quindi ha in mano una metodologia una praticità una finezza nelle mani che gli consente veramente di lavorare bene sul metodo e dare la garanzia al 100% salvo ovviamente signori miei una secchiata d'acqua lì non ci fa nulla nessuno però insomma non c'è acconciatura che tiene ma tutte quelle situazioni possono andare a toccare la tenuta sono sicuramente minimali ridotte veramente al minimo e noi lavoriamo molto con questi effetti eterei fluttuanti sono quelli che vanno proprio di moda nelle ultime collezioni del 2020 2021 dove vediamo proprio questa morbidezza che per essere creata ci vuole veramente tanta tanta manualità e quindi allenamento e preparazione dopo le faremo vedere le tue accolciature un attimo soltanto perché volevo rispondere ad una domanda che pone Chiara a questa risponderei direttamente io perché dice riportare dei fiori del bouquet nell'acconciatura allora io spesso sconsiglio questa questa tecnica perché perché una forcina con dei cristalli con delle perline che riprende il tuo abito sicuramente rimane perfetta per tutta la giornata mentre il fiore subisce molto la temperatura tu cosa ne pensi cioè se estate il fiore appassisce in fretta se è inverno magari puoi anche permettertelo brava giustamente la procedzione che volevo fare io era proprio questa è vero che noi utilizziamo dei fiori stabilizzati per mettere nelle acconciature quindi i fiorai ce li preparano e sanno come prepararceli però tendenzialmente io consiglio tempo degli accessori uno perché se noi mettiamo dei fiori tendenzialmente dobbiamo lavorare su tonalità cromatiche dei capelli chiare perché se ti va troppo sullo scuro si rischia di fare l'effetto macchia nelle foto quindi non è proprio così semplice inserire dei fiori poi bisogna vedere che fiori bisogna vedere se ci stanno bene sull'abito e soprattutto se tengono tutta la giornata sicuramente un accessorio come consigliava Anna è il giusto compromesso anche perché essendo nato proprio in sinergia con l'abito di conseguenza è il suo è quello che ovviamente come si suol dire calza pennello ecco ok io adesso chiederei ancora di rispondere a Roberta che ti faccio vedere cosa ti scrive è meglio creare delle sfumature di colore per un raccolto in caso di capelli naturali allora innanzitutto ringrazio Roberta per averci fatto questa domanda interessantissima e invito tutti gli amici che ci stanno seguendo se vogliono di guardare le nostre page di Anna Sposi e Riccardo Fashion Wedding sia su Instagram che su Facebook lì troverete tantissimi spunti non solo di persone che hanno il monocolore ma anche di tante altre che hanno effetti di sfumatura e secondo me la risposta viene un po' da sé nel senso che laddove andiamo a creare un raccolto di solito tendenzialmente è compatto ok pensate a vedere un raccolto sfumato con un effetto più dolce con delle sfumature delle velature molto sottili che fanno quell'effetto vedo o non vedo e immaginatevi lo stesso raccolto magari tutto di colore nero cioè ora vi ho preso proprio gli estremi però per farvi capire dipende molto dal gusto che vogliamo raggiungere come si sceglie la tonalità giusta come dicevo un po' all'inizio serve un look maker perché il look maker è colui che ti fa un test cromatico attraverso dei temi con vari sottotoni caldo e freddo e riesce a capire quali sono le palette di colori giuste che si sposano con il tuo incarnato e che valorizzano i tuoi punti di forza la grana della tua pelle per dare proprio quell'effetto di luminosità di freschezza di brillantezza che nessuno diciamo può raggiungere se non attraverso un test cromatico proprio perché il sottotono quindi se si parla di caldo freddo se uno regge contrasti cromatici alti contrasti non scioglie lingua contrasti cromatici bassi o intermedi cioè bisogna veramente andare a chiedere la paletta giusta e soprattutto questo lo dico anche per il make up perché la paletta e la scelta dei colori ovviamente è proprio dettata dal test cromatico ma torniamo ai tuoi capelli immaginatevi un effetto naturale morbido dettato perché non dal colore naturale della sposa ma con quegli accorgimenti che il parrucchiere dopo aver valutato l'acconciatura e aver stabilito quale sarà l'acconciatura delle notte può consigliarvi e perché no ecco darvi degli spunti darvi degli stimoli Anna guarda ti rubo un secondo in più ma ci tengo a sottolineare questo aspetto perché è fondamentale vi faccio un esempio con delle palette colori queste sono le palette colori che piacciono tanto a voi donne innanzitutto riuscite a vederle scrivete se le vedete se sono amicili queste qui sono tutte delle palette che riguardano le stagionalità cromatiche quindi noi a seconda del tipo di pelle del tipo di incarnato del tipo di occhio noi riusciamo ad adeguare sia il coloro dei capelli che il make-up come vi dicevo Riccardo è un artista adesso volevo farvi vedere alcune delle sue acconciature e poi mi direte se che cosa ne pensate allora vediamo se riesco a far partire su Facebook perché questi lavori innanzitutto vengono proiettati solo sulla parte Facebook quindi ci segue attraverso la piattaforma Instagram purtroppo ci scusiamo ma non riuscirà a vederle però magari se riuscite ad andare sulle nostre poste Riccardo Fashion Wedding troverete la registrazione e di conseguenza potrete vederle anche voi i lavori che vi mostrerà Anna sono gli ultimi lavori che in fase di quarantena ho cercato di realizzare a casa insomma con pochi strumenti e solo con l'ausilio delle cupette delle testine che avevo a disposizione quindi non sono diciamo il top per quanto riguarda la resa fotografica però sicuramente vi danno un'idea di quelli che sono i lavori che facciamo e quando parlo di versatilità dell'acconciatura a cosa mi riferisco queste sono tutte acconciature tridimensionali in 3D dove noi vediamo non solo l'altezza e la larghezza ma anche la profondità sono movimenti finosi si parla sia di raccolti totali alti tipo questo come di onde come di morbidezza come di intrecci vedete le sciocche sembrano quasi naturali in realtà per costruire questi effetti occorre una bella preparazione a volte anche 2-3 ore di lavoro si può fare un raccolto basso con tutte le onde e da lì ci si adatta poi i vari accessori questa è la famosa rosa l'avete vista una rosa meravigliosa le tucchiettonate che viene richiesta questi effetti proprio i terei le sciocche fluttuanti questa morbidezza estrema e questo è quando una foto scattata quando tenevo un corto di formazione a dei professionisti diciamo che la cosa bella io ho voluto te proprio per questo motivo perché tu sei un artista nei raccolti io me ne sono innamorata quando ti ho conosciuto ho visto i tuoi lavori devo dire me ne sono innamorata grazie ho voluto come dicevo averti ospite qui perché tu oltre a fare questi bellissimi lavori nei tuoi atelier sei anche un formatore giusto per tutti quelli che operano nel settore wedding quindi parrucchieri in generale in tutta Italia tu fai formazione noi facciamo formazione ai parrucchieri sulle acconciature da stella da sposa e grandi eventi io sono uno dei membri della nazionale italiana acconciatori e ho partecipato alle Olimpiadi di Sochi nel 2018 portando addirittura la bandiera durante la parata finale delle Olimpiadi quindi vi potete immaginare l'emozione e l'orgoglio di rappresentare uno Stato insieme ad altri 14 colleghi provenienti da altre regioni d'Italia e veramente siamo arrivati quarti su una competizione a livello mondiale quindi potete tornare a casa con una coppa in mano e la soddisfazione di aver vinto perché per noi è comunque una vittoria essere arrivati al quarto posto su 23 nazioni è veramente motivo di orgoglio per l'altro in questi giorni ho ricevuto sempre dal Presidente della Nazionale Italiana Acconciatori nuovamente l'invito a partecipare per il prossimo anno quindi con veramente tanta soddisfazione inizio a renderlo pubblico perché ho proprio il desiderio e la voglia di confrontarmi e perché no di fare un passettino in più Patrizia ci scrive grazie molto interessante e quindi ringraziamo Patrizia per questo intervento e quindi direi che Riccardo sei stato veramente molto esaustivo cioè hai dato molti spunti grazie Anna grazie tra l'altro ho visto c'è una nostra che ti chiedeva aspetta guarda se ritrovo la domanda su Instagram la credo Sarita si chiami che dice se sono presenti le damigelle devono seguire anche loro seguire anche loro la contatura della sposa con i vari accessori allora questa mi era sfuggita nessun problema Anna visto come dico sempre l'unione fa la forza non ti preoccupare allora mi rivolgo alla nostra amica Sarita e vado a toccare un attimino questo punto noi quando facciamo il test preliminare quindi dove noi chiediamo alla sposa di darci tutti quei dettagli per conoscerlo un pochettino per entrare in quello che è il suo stile il suo modo di essere la sua vita privata noi facciamo proprio un test sono due pagine di test in cui cerchiamo di conoscere più possibile e sono domande ovviamente mirate per capire se il raccolto che andremo a fare deve essere un raccolto che ovviamente è armonico e bello ma che riesca a sbalordire la sposa piuttosto che lo sposo piuttosto che gli invitati e lì proprio andiamo a chiedere in questa fase anche se ci sono delle dammicelle le dammicelle tendenzialmente possano essere o sullo stile della sposa e quindi avere raccolti similari ma non uguali ok oppure possono avere proprio uno stile a sé dove le dammicelle sono tutte con quell'acconciatura lì e quel vestito lì quindi dipende molto da come viene interpretato il stile e come gli sposi decidono di improntare un po' questa dinamica noi difficilmente ci esponiamo su questo perché è una cosa un pochettino personale a differenza di un consiglio oggettivo quindi ti sta bene la paletta colori pattellati ti sta bene la paletta dei colori dell'inverno per dire su questa cosa sarebbe una sensazione nostra e è veramente molto e difficilmente tendiamo a esporsi ma semplicemente a far presenti quali sono i tazzelli e le varie opzioni poi giustamente l'ultima parola è sempre degli sposi certo è come quando a noi chiedono il parere dell'abito in funzione all'abito della sposa all'abito delle damigelle certo si dà un parere si cerca di consigliare al meglio ma va valutato da caso a caso in base alla fisicità all'incarnato delle damigelle va visto tutto il contesto quindi sicuramente sì sono cose da valutare le damigelle hanno tutte le stesse forme bravissimi è difficile trovare un abito che possa stare a pennello immagino Anna corregimi se sbaglio nell'acconciatura che stia bene a tutte dobbiamo trovare un compromesso il nostro compromesso solitamente è lo stesso colore ma la linea che veste meglio le varie damigelle quindi ci sarà la damigella che avrà l'abito magari molto stretto ci sarà la damigella che avrà l'abito decolleté l'abito a monospalla piuttosto che con le maniche ma sempre un filo conduttore sarà il colore e più delle volte anche il tessuto e lo stesso potrebbe valere per il capello cioè sicuramente stare su una stessa armonia ma non devono essere per forza uguali perché ognuna ha la propria forma ha il proprio colore di capello e quindi diventa veramente difficile certo giusto concorde anche struttura di capello diversa io direi io direi che abbiamo dato parecchie informazioni Riccardo vuoi hai qualche punto che vorresti toccare ancora qualche sposa ti ha sollevato dei problemi le preoccupazioni che solitamente hanno sicuramente ne parlano con me ma ne parlano anche con te allora se dovessimo parlare di preoccupazioni Anna probabilmente non basterebbero giornate giornate di diretta però cerchiamo di tirar facciamo un'altra diretta le paure i timori più comuni perché a volte veramente si vanno a costruire delle situazioni particolari proprio dettate dal dubbio dalla paura quindi in primis io dico sempre noi ci siamo noi siamo qua quindi se avete dei dubbi piuttosto che in Toscana si dice me la canto me la sono cioè faccio il problema mi do la risposta e trovo anche la soluzione cioè è un pochettino forse presuntuoso questo tipo di eater probabilmente capire e avere un confronto con in questo caso la responsabile di un atelier per dei dubbi piuttosto che dei dubbi sull'acconciatura e quindi ricercare un look maker nella vostra zona nella vostra regione poi look maker e come i wedding guy e stylist si spostano in tutta Italia immagino quindi io vedo ho spose che mi chiamano dalla Puglia piuttosto che dal Trentino quindi non è necessariamente detto perché non sono nel circondario non posso essere seguito da oggigiorno quelli che sono gli strumenti che abbiamo a disposizione zoom call skype call veramente riusciamo a soddisfare quelle che sono tutte le esigenze tramite una videochiamata è ovvio scontato che i test quindi i test di armocromia la prova dell'acconciatura va fatta in loco quindi ci dobbiamo incontrare o da una parte o dall'altra e farlo lì non si può fare ovviamente via skype però una consulenza tranquillamente un confronto ma a volte un risolvere dei dubbi tranquillamente può essere fatto senza problemi insomma anzi invito tutte le cose che magari vogliono semplicemente un confronto con noi Anna a scriverci a contattarci con le nostre pagine vedete i nostri nomi appuntateveli e ci potete tranquillamente contattare beh possono anche scriverci lasciare poi eventualmente una richiesta e sicuramente io passerò poi a te laddove ci sarà una richiesta a tuo a tuo nome quindi possono tranquillamente scrivere Lady Anna Sposi oppure Riccardo Fashion Welding cioè la soluzione la si trova anche come dicevi tu con una una skype call giusto per avere un confronto e se hanno dei dubbi da chiarire e chiarirli prima perché è inutile tenerseli dentro come come succede spesso anche con l'abito io dico sempre se avete dei dubbi parliamone ma non aspettate settimane mesi perché poi quel problema diventa più grande invece se se ne parla subito si risolve subito io passo da una parte all'altra ogni tanto sembra che storto gli occhi ma perché cerco di stare un po' su Facebook un po' su Instagram e ho quest'andatura un po' altalenata tranquilla Anna tu sei meravigliosa grazie troppo buono troppo buono e quindi un'altra cosa che volevo chiedere a te è questa allora quest'anno io ho avuto tantissime richieste da parte di spose di acconciature come coroncine diademi tiare cioè mai come quest'anno erano tornate sono tornate perché il 2020 veramente mi ho avuto una grossissima richiesta come ti comporti con quel tipo di acconciature cioè tipo belle alte ma non Regina Vittoria cioè proprio messe in modo un po' più moderno ma il classico diadema rivisto in parole povere ecco volevo un parere da parte tua allora in primis come dico sempre bisogna scegliere l'acconciatura perché l'acconciatura che è detta l'acquessorio e non il contrario ci sono delle situazioni un pochino limite in cui le spose arrivano già con in mano la coroncina con in mano la chiara diadema o quant'altro e in quel caso lì ci dobbiamo noi adeguare a quello di conseguenza io consiglio sempre di portarlo l'accessorio che viene scelto in appuntamento che appunto riteniamo sia il più valido vicino all'abito noi consigliamo sempre di portarlo in appuntamento col parrucchiere perché così può fare cioè è il parrucchiere che si ingegna nella trovare l'acconciatura migliore per quel tipo di accessorio scelto sì dico lì è un pochino un contesto un pochettino più forzato tendenzialmente noi si consiglia proprio di scegliere perlomeno lo stile dell'acconciatura e poi andare lì perché no acquistare l'accessorio difficilmente si può fare a priori perché se non si è fatta una valutazione del volto come vi dicevo in fase di consulenza come puoi scegliere un accessorio giusto no no ma Riccardo questo sicuramente viene fatto dopo cioè allora la sposa acquista l'abito poi parla con il suo parrucchiere in funzione all'abito che ha scelto cominciano ad abbozzare quello che è il tipo di acconciatura poi tornando in atelier da me mi dice che tipo di acconciatura hanno pensato di andare a creare e lì si va a vedere l'acconciatura da binare e il velo quale velo se è lungo se è corto perché anche lì se il velo è lungo ed è un velo di quattro metri ha un peso che anche per voi deve avere una tenuta migliore rispetto a un velettino di quelli corti che sicuramente può anche essere una situazione abbastanza posticcia passami il termine queste problematiche vengono affrontate in appuntamento ma dopo che ha scelto l'abito e dopo che si è consultata con l'acconciatore giusto concorde quindi sei d'accordo con me che questo è il litter da avere giusto ci sono altre domande ci stanno scrivendo dormono tutti è il posto pranzo e li abbiamo assopiti noi vedo ci sono tantissimi che allora vedo gioia che ci sta ringraziando viviana ciao patrizia che ci dice bravissimi eccolo qua molto preparati e poi vediamo ecco questa è un'altra sposa che dice non vedo l'ora di fare la prima prova io direi che ci siamo una bella ragazza bionda la voglio anche io come modella eh direi che è proprio una bella ragazza tra l'altro vedi noi cerchiamo sempre le bionde le rosse le ramate tendiamo un pochettino a lavorarci meno con le more perché ripeto a volte nelle foto viene fuori un po' l'effetto macchia e quindi per ovviare a questo problema bisogna sempre trovare un punto di incontro a livello colorimetrico e quindi scariture per smorzare un po' questi effetti e anche lì adesso mi allaccio a questo discorso Riccardo anche lì il colore i riflessi di colore quando e come farli cioè tante spose hanno questa voglia di cambiare un pochino per la cerimonia vogliono vedersi un po' diverse però il rischio è che farlo troppo presto svanisce un po' la sorpresa e farlo troppo sottodata se poi la sorpresa non è proprio quella desiderata oddio diventa un po' difficile da gestire tu cosa consigli alle spose allora l'unica cosa ci tengo a dirti Anna che abbiamo circa 5 minuti e poi gli amici di Instagram ci saluteranno perché involontariamente ma la diretta di Instagram non può superare determinati ci siamo dilungati più del dovuto non ce ne vogliate vi salutiamo non ce ne vogliate in caso in cui la conversazione venga bloccata almeno siamo stati educati e corretti allora io in caso in caso dovesse terminare qui chiuderei già con Instagram dicendo che ringraziamo tutti io innanzitutto ringrazio Riccardo per questa diretta siamo reperibili alla nostra pagina che è Lady Anna Sposi e Riccardo De Biasi Fashion Wedding e questa è una diretta che facciamo tutte le settimane con ospiti diversi proprio perché vogliamo in qualche modo essere d'aiuto agli sposi quindi a giovedì prossimo con un altro ospite intanto seguiteci finché non ci taglieranno la linea Riccardo tra l'altro ne approfitto Anna per invitare tutti i nostri ospiti anche sulla mia rubrica che faccio ogni giorno dove tratto argomenti legati proprio non solo alla consulenza d'immagine ma anche abbiamo un sacco di ospiti un sacco di spunti quindi ogni giorno alle 18 troverete sulla nostra pagina Riccardo Fashion Wedding questa è la nuova rubrica che si chiama destinazione matrimonio ok allora Riccardo dici del colore ritorniamo al discorso di prima dell'argomento della colorazione come dicevo all'inizio quello che è la gamma colorimetrica da scegliere è sicuramente conseguente a un test cromatico quindi la prima cosa da fare è sicuramente vedere attraverso dei teli ve ne faccio vedere alcuni perché in questi giorni li sto utilizzando per fare delle consulenze private attraverso appunto i social ve ne faccio vedere alcuni che vedete quando noi li andiamo a posizionare correttamente sotto il volto queste qui ci dicono talmente tante cose su quelle che sono le nostre nuance quindi vediamo se ne vale la pena di sfruttare un rosso acceso piuttosto che un rosso pagato di utilizzare un bianco ottico piuttosto che un grigio antratracite oppure un cammello oppure un verde foresta un verde pinno quindi utilizzare scusate affogo ti ho fatto parlare troppo Riccardo utilizzare dicevo due teli comparati di due sottotoni diversi e capire quale valorizza di più il nostro sguardo la nostra bocca i nostri occhi quindi il colore noi si valuta sempre dopo questo step tendenzialmente va fatto non troppo a ridosso perché comunque se sono colorazioni tendenzialmente scure possono un pochettino macchiare la cute laddove ci sabbia una sensibilità al prodotto oppure scusate il tinghiozzo oggi è così oppure neanche troppo prima perché comunque se no c'è quel antiestetico effetto ricrescita che veramente non si può vedere quindi i termini giusti sono dettati uno dai colori scelti in fase di testa due dal lavoro che deve essere poi realizzato su quel determinato tipo di capello e da lì programmata la tentistica giusta è molto difficile dare un'indicazione di massa perché ogni capello è diverso ogni scheritura è diversa e ogni richiesta che ci viene fatta dall'utente è diversa quindi a priori è difficile da grupparli in un unico gruppo ecco certo certo sicuramente senti però adesso dobbiamo tranquillizzare Chiara perché c'è scritto breve storia triste io sono nera ma l'acconciatura sul capello scuro risalta molto di più ed è ancora più bella secondo me allora io tranquillizzo Chiara in questo senso che gli effetti di naturalezza di tridimensionalità che Chiara ha visto nelle nostre foto nelle mie foto sono effetti che ovviamente necessitano di un contrasto cromatico questo non vuol dire che non facciamo raccolti sulle more pensate alla tipica donna mediterranea tendenzialmente sono tutte castane castane anche calde oppure proprio nere addirittura cosmeticamente trattate quindi non è che non si fanno si fanno tenendo presente che si parla di colorazioni scure e quindi andiamo ad unire degli accessori che danno luce e perché no faremo dei raccolti un pochettino più compatti proprio per evitare troppo l'effetto macchia come dicevo all'inizio certo però lavorando molto con la luce sicuramente il capello scuro rende bene ha una resa diversa per una lavorazione diversa giusto Riccardo è una domanda tipica mi viene fatta soprattutto quando noi perché vedono le mie pupette sono quasi tutte bionde ma perché essendo specializzati su questi effetti tridimensionali che trovate appunto sulla mia pagina Riccardo Fashion Wedding noi consigliamo ramati rossi e biondi non è che le castane non li fanno ma dobbiamo avere accorgimenti che ci contentano di valorizzare in ugual modo il raccolto quindi l'accessorio piuttosto che un riflesso in lunghezza piuttosto che magari la struttura del raccolto leggermente più compatta sono questi gli accorgimenti che dobbiamo tenere Chiara spero di averti tranquillizzato puoi stare tranquilla dai ma sicuramente sì tra l'altro ti dico per la mia esperienza quando si sceglie l'acconciatura in atelier della sposa io dico sempre che la bionda ha bisogno proprio di di mettere cose un po' più evidenti perché o fa un'acconciatura come quelle che fai tu che sono delle opere d'arte allora lì non serve una grande acconciatura perché già il capello sarà tanto nel caso invece l'acconciatura è un'acconciatura normale e passami il termine ha bisogno proprio di un qualcosa di un po' più grande un'acconciatura un po' più ricca più luminosa perché altrimenti si perde sul biondo mentre la stessa acconciatura la stessa forcina lo stesso ramo magari di cristalli appoggiato su un capello scuro ha una resa decisamente diversa quindi sicuramente sono due tipologie di acconciatura diversa quelle che si andranno a fare giusto sì sì ok io Riccardo direi che ti ho veramente mi senti? sì abbiamo terminato la nostra diretta su Instagram te lo volevo comunicare Riccardo mi senti? sì ok perfetto c'è stato un momento che non ti ho sentito più perché Instagram ci ha chiusi come dicevi tu abbiamo sporato abbondantemente il tempo allora io direi che a questo punto ho approfittato tanto di te quindi ti lascerei ai tuoi impegni che sono tantissimi hai un sacco di call private da fare con con future spose e call dirette con altri professionisti come me e quindi io ti ringrazio se non hai altro da aggiungere se non ci sono domande io ringrazio tutte le persone che ci hanno seguito e spero di conoscere perché vedo perché no sto vedendo aspetta te la faccio passare in diretta Maria Stella cosa ne pensi di un coloritura non naturale blu fucse eccetera applicata l'acconciatura da sposa Maria Stella dipende tutto dall'obiettivo che uno si pone se uno vuole realizzare uno stile un mood romantico e ci mette un'acconciatura fucsia magari è un pochettino più difficoltoso realizzarlo se vogliamo fare una sposa un pochettino più rock un pochettino più grintosa perché no magari creare degli effetti anche un po' più visibili certo dipende qual è l'obiettivo a me mi sono capitate spose di tante tipologie però se avessi fatto lo stesso lavoro a tutte una rimaneva contenta e le altre scontente certo certo sicuramente va vista la personalità oltre che il capello il discorso ci riallacciamo al discorso iniziale cioè in primis va valutato il capello la forma del viso lo stile dell'abito la personalità della persona perché se appunto sei uno spirito rock che non puoi avere la stessa acconciatura della ragazza romantica che vuole sentirsi una principessa quella giornata sicuramente la richiesta è diversa e la resa sarà diversa sia dal punto di vista dell'acconciatura che dell'abito giusto vero spero di aver risposto a Maria Stella penso di sì non non ha fatto altri interventi quindi penso di sì io di nuovo direi che questo è quanto ti saluto e alla prossima intanto mi concedo da te e se vuoi l'ultima cosa se vuoi magari dare i tuoi contatti per qualsiasi cosa vuoi ripeterli facebook matrimonio.com tu su tiktok e a breve su youtube ti trovano dappertutto dappertutto allora io ti se vuoi ti lascio qui a finire a concludere con me e mi rivolgo a tutte le le spose che sono in diretta in questo momento vi aspetto ancora tutte spero di essere stata comunque interessante con questa mia diretta e con i miei colleghi e partner che scelgo di settimana in settimana la prossima settimana sarà interessantissimo come argomento perché avremo Michele Platì quindi dalla Toscana andremo in Puglia quindi a Lecce avremo come ospite Michele Platì che è l'architetto dei fiori perché è colui che che crea queste questa armonia nel nelle acconciature e nelle negli allestimenti in tutto quello che che poi deve servire a completare il look perché l'abito l'acconciatura ma anche il bouquet e siccome non volevo creare nessun come dire ho voluto dei professionisti a livello nazionale persone che conosco che stimo che sono i numeri uno in questo settore e li ho scelti volutamente distanti da me proprio per non creare assolutamente conflitti di interesse giusto quindi saluto di nuovo tutti ciao alla prossima diretta ciao 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 ciao